liberi dentro eduradio e tv un ponte tra carcere e città sabato primo ottobre buon inizio mese e benvenuti bentornate e bentornati su liberi dentro eduradio tv la nostra trasmissione che fa da ponte tra carcere e città saluto sempre qui con me Antonella ciao Caterina ciao a tutti e buon buon sabato e oggi iniziamo parlando di giustizia ma da un punto di vista particolare perché è il tema dedicato dall'arcivescovo Matteo Zuppi con questa rubrica che si chiama le parole chiave della quarta beatitudine lo ascoltiamo subito e ci rivediamo tra pochissimo ecco siamo nella quarta puntata di parole chiave insieme al arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi grazie di essere qui buongiorno eccoci bentrovati tutti e oggi commentiamo la quarta beatitudine e beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati ma io a bruciapelo la prima domanda che ti faccio Matteo è chi è il giusto nella Bibbia beh il giusto nella Bibbia è una figura molto curiosa molto particolare perché è non coincide anzitutto con l'uomo di fede è il giusto partiamo partiamo da una delle delle parabole più importanti anche più note quello di avevo fame mi ha dato da mangiare avevo sete mi ha dato da bere ero vestito ero nudo mi ha dato il mio vestito e saranno i giusti che l'hanno dato eccetera eccetera che saranno benedetti dal padre quindi non quelli che hanno hanno superato tutti gli esami di catechismo quelli che hanno avuto una fede eccetera eccetera i giusti quindi è indipendente dalla fede no l'importante essere giusti essere noi come diremmo diremmo non so degli uomini per bene dei garantuomini i nostri nonni avrebbero detto quello un garantuomo per dire un uomo serio un uomo per bene non so uno che 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 difende gli altri che vuole bene agli altri no quindi il giusto è uno che eh difende la giustizia la vive nella propria con la propria vita quindi non è non fa lezioni ma la vive questo è un uomo giusto ecco che quindi non piega alla il mondo al proprio interesse o alla o al proprio io ma fa esattamente il contrario spesso speriamo anche che si ispiri alla giustizia che dio ci insegna che dio ci insegna essere giusti lui è giusto ci insegna essere giusti peraltro finisco Gesù dice anche guardate che se la vostra giustizia non supera quella degli scrivi dei farisei non entrerete nel regno dei cieli che vuol dire la giustizia degli scrivi dei farisei era quella occhio per occhio dente per dente bene la giustizia è chiarissima tu mi hai staccato un occhio io te ne stacco uno tu mi hai staccato il dente io ti stacco un dente che in fondo era anche una giustizia che per certi versi disciplinava anche un po' la cosa perché qualche volta lo sappiamo soprattutto se uno si arrabbia eh tu mi hai staccato un occhio io ti stacco tutta la testa perché non ci vedo più perché non ne posso più perché ecco tu mi hai fatto qualche cosa che non potevi che non devi fare no quindi se vogliamo è anche ehm limitativa della vendetta ma non basta perché la giustizia del che ci chiede Gesù è un'altra è quella per esempio del perdono quella di sconfiggere il male con la forza dell'amore ecco entrando nel senso allora anche letterale di questa espressione fame e sete della giustizia i due verbi indicano le i bisogni principali dell'uomo nutrirsi e dissetarsi ma allora che cosa si intende con questa espressione così forte non è così un passatempo cercare la giustizia averne fame e sete cioè sentire la mancanza quindi anche la ricerca ricercarla no è una condizione che Gesù 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 vuole darci l'idea è una condizione anche un po' fisica di coinvolgimento che quasi non ne può fare a meno no tu non puoi fare a meno dei mori se tu non hai eh se tu non mangi e se tu non bevi no quindi sarebbe uno che non pare la giustizia vabbè come va va no no come in passatempo oppure come una hobby come per esempio noi diremmo anche un po' come di filantropia vabbè mi occupo un po' di di filantropia faccio un po' di cose per per gli altri quello che posso ci riesco cioè fame e sete cioè qualcosa che fa parte della mia vita non ne posso fare a meno no questo è quello a cui noi siamo chiamati e questo diventa una vera beatitudine perché solo così saremo saziati e uno fa un po' di filantropia e poi dopo di che uno si guarda intorno qui non dobbiamo fare un po' di filantropia il mondo è pieno di ingiustizie il mondo è una roba che 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 non è che non è accettabile produce vittime è proprio ingiusto no adesso si fa spesso e purtroppo però è anche molto vero quei cento che hanno tanta ricchezza di miliardi di persone no è che è giusto no poi diceva gli economisti direbbero certo che è così per forza i ricchi devono fare i ricchi è peccato che poi i ricchi fanno i ricchi i poveri sono poveri no quindi c'è bisogno di giustizia ecco e insisto fame e sete quindi non per provare a fare qualche cosa che 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 possa mi verrà bene per un momento ma fare qualche cosa che 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 finché non prima ne posso fare a meno non posso fare a meno della giustizia c'è un'altra espressione che mi viene in mente pensando alla giustizia un modo di dire io oggi mi faccio giustizia però può essere fraintesa col senso di vendette allora come disambiguare ecco il senso di giustizia divina dal senso di giustizia umana dunque la giustizia divina è anche una giustizia umana ma è giustizia non è vendetta e la vendetta non è giustizia anzi la vendetta in molti casi pensa di essere giusta e in realtà eh fa del male diventa complice del male e noi dobbiamo invece per fare esattamente il contrario cioè la giustizia di dio quella di gesù è chiarissima non basta nemmeno occhio per occhio per occhio ma io vi dico di amare i vostri nemici questa è la giustizia di gesù quella in cui i cristiani sono venuti eh questo per esempio vuol dire che eh non soltanto non non è accettabile la prima di morte ma anche che se io voglio condannare qualcuno che mi ha fatto del male eh non lo devo fare per vendetta ma appunto per giustizia e quindi anche paradossalmente perché può e deve far bene a tutti quanti e anche la stessa persona che ha fatto del male perché quindi forse può ridimersi no eh quindi liberi sempre da un'idea di vendetta che non soltanto non aiuta la giustizia ma la tradisce la giustizia concludiamo con due suggerimenti per praticare allora la giustizia la giustizia vera ma anzitutto è stare sempre dalla parte di chi è vittima dell'ingiustizia quindi la prima cosa è stare dalla parte delle vittime e quindi ricordarsi di quelli che eh che soffrono eh non dalla non dare non accettarla mai non rassegnarsi no ma essere come sempre nel Vangelo c'è l'immagine di quella vedova che cerca giustizia con il giudice che non gli importa assolutamente niente in cui la continua a andarci finché il giudice non molla no lo dice Gesù per dire siate perseveranti non è che schiaccia un tasto e scatta le scariche succede tutto no devi essere molto insistente eh poi un altro consiglio è eh quindi le vittime una parte le vittime le vittime dell'ingiustizia no eh l'altro l'altra considerazione è eh se c'è giustizia e giustizia stiamo tutti meglio eh quindi non è che la giustizia eh fa star cambia le parti no eh chi stava che stava male prima mosca bene viceversa la giustizia vera fa star bene tutti quanti io arcivescovo Matteo ti ringrazio e ringraziandoti ricordo anche ai nostri tele radioascoltatori l'indirizzo per scriverti direttamente segreteria punto arcivescovo chiocciola chiesa di bologna punto it così se ti arrivano delle domande arrivano al diretto destinatario grazie alla prossima e dopo aver ascoltato le parole chiave con l'arcivescovo di bologna Matteo Zuppi passiamo la parola a Maria inglese psichiatra ed esperta di carcere che ci parla di eh genitorialità e carcere è un servizio in replica e lo rimandiamo perché l'argomento è veramente molto interessante ascoltiamoli insieme Allora parlare del rapporto genitoriale in carcere eh lo possiamo affrontare come argomento secondo me almeno in due modi prima di tutto considerare che molte persone che sono detenute in carcere hanno già famiglia e quindi hanno già dei figli fuori e questo apre tutto il capitolo di quanto si possa essere padri a distanza come coltivare appunto una relazione genitoriale non essendo presente nelle fasi nei passaggi di un bambino che vuol dire la scuola e le feste di compleanno le feste comandate però c'è anche un altro aspetto del rapporto genitoriale e carcere che è quello dei gli uomini che decidono di diventare padri durante la detenzione cioè forse è un'esperienza meno conosciuta e meno raccontata però è un'esperienza anche questa molto trasformativa per la mia esperienza la nostra esperienza come gruppo che lavora lavorava nei carceri di parma ci è capitato di accompagnare persone che avevano deciso di diventare padri durante la detenzione e oppure che avevano appunto dovuto come dire affidarsi alla scienza per poter concepire questo bambino. Allora sono due aspetti che se vogliamo sono diversi però entrambi secondo me danno da pensare rispetto a che cosa noi lasciamo che cosa noi rappresentiamo per i nostri figli o per i nostri futuri figli e naturalmente un uomo che è in carcere ma penso che valga lo stesso per la donna anche se la detenzione femminile è un po' diversa rispetto all'aspetto genitoriale per un uomo che è padre durante la detenzione che ha lasciato i suoi figli piccoli fuori e che appunto vede solamente nei permessi e negli incontri nei colloqui c'è secondo me qui un rapporto legato al fatto che ci si fida che comunque l'apprendimento l'educazione la crescita di questo figlio avvenga in qualche modo anche un po' senza di noi e quindi questo è secondo me una bella sfida dal punto di vista genitoriale siamo spesso genitori soprattutto nella cultura mediterranea molto controllanti abbiamo sempre bisogno di vederli i nostri figli di averli sott'occhio di sapere cosa fanno dove vanno eccetera qui c'è un gesto di estrema fiducia che è quello di pensare che questo figlio cresce e quindi magari alla fine lo rivedrai che è già adulto o già adulta e le domande che ti fa un bambino sono diverse dalle domande che ti fa un giovane uomo una giovane donna nell'altro aspetto invece di chi decide di diventare padre durante la detenzione e quindi costruisce un immaginario di famiglia e di coppia con figli che sicuramente è molto sfidante anche questo ma che è come se in questo caso io ci vedo molto anche una una trasformazione proprio del soggetto dell'uomo padre in questo caso c'è quindi l'essere padre in questo modo è come se aggiungesse uno strato diverso alla propria costruzione umana cioè come dire io sono uomo sono un detenuto quindi ho questo questa identità ma non solo questa sono compagno marito talvolta ma mi costruisco un altro aspetto identitario che quello che voglio essere padre e questo secondo me è una sfida molto più esigente della prima e dopo aver ascoltato maria inglese passiamo ad un servizio che abbiamo realizzato proprio durante l'evento estate dozza che questa che nel mese di agosto ci ha visto un po presenti appunto al Rocco D'Amato e l'intervista è stata fatta alla regista Enza Negroni alla produttrice di Giovanna Canè del film la prima meta che vi consigliamo di guardare assolutamente perché veramente bellissimo e ovviamente alla direttrice del carcere di Bologna Rosalba Casella e le abbiamo intervistate un po tutte perché è stato un momento di condivisione di tante cose e soprattutto è stato molto bello vedere la prima meta questo film insieme alle persone ristrette eravamo in questa sala cinema a seguire questo bellissimo film documentario guardatelo perché ci sono delle cose che non potrete mai vedere se non attraverso questo film degli interni le persone che fanno questo sport che il rugby ovviamente e i parenti che vi partecipano qualcosa di molto bello emozionante a dopo siamo con Giovanna Canè la produttrice del film la prima meta della regista Enza Negroni ecco come è nata l'idea di girare un film all'interno del carcere allora l'idea è nata da l'allenatore di questa squadra che si chiama Massimiliano Zancuoghi che allenava le giovanili del Bologna Rugby che è una società di Bologna dove mio figlio giocava e ha giocato per otto anni quindi lui ha iniziato a parlarmi di questo progetto che stava iniziando in carcere e io ho coinvolto subito Enza con la quale collaboro avevo già collaborato in altri laboratori con gli studenti fuori sede con l'ultra del Bologna Calcio come so essere una persona anche molto adatta a lavorare con dei gruppi di anche gli sportivi e quindi oltre a essere una persona con la quale sono molto affettata sia professionalmente che a livello di amicizia e quindi abbiamo deciso di di provare a produrre questo documentario Come risponde il pubblico esterno alla visione di un film così particolare? Allora il film che è uscito al Festival dei Popoli nel dicembre del 2016 ha avuto una buonissima... diciamo ci è stato... mi è piaciuto molto sia al pubblico generalista che anche al pubblico sportivo Il film ha avuto un percorso in festivaliero importante perché oltre al debutto al Festival dei Popoli che è un festival del documentario molto importante in Italia siamo stati al Festival di Dion, ci sono due relle quindi... e poi siamo... abbiamo avuto proiezioni Stati Uniti, Russia... abbiamo girato molti festival abbiamo vinto anche due premi al Festival dei Documentari di Noto e Amatera per progetti sociali e sportivi e quindi abbiamo proiettato all'interno di cinema una distribuzione insomma organizzata a livello nostro quindi di produttori perché noi abbiamo avuto una distribuzione cinematografica che ha acquistato diciamo il progetto per cui l'abbiamo curata direttamente noi però abbiamo fatto proiezioni in tutta Italia è stato un lavoro molto faticoso ma il pubblico, il sale è sempre pieno, molti complimenti sia da pubblico appunto femminile, maschile, ragazzi, giovani nelle scuole, l'abbiamo fatto vedere tanto nelle scuole perché è anche un film che insegna molto Allora il Giallo Dosta nasce nel 2013, almeno l'idea del Giallo Dosta nasce nel 2013 e si concretizza nel 2014 quando siamo riusciti come Bologna Rugby che è una società qui di Rugby di Bologna, nonché la più antica d'Italia insomma 1928 si chiama, quando il Bologna Rugby ha deciso di dedicare parte delle proprie risorse e del proprio tempo in un progetto sociale e lavorare nel rugby significa lavorare all'educazione dei bambini, vederli crescere, farli diventare dei giovanotti e poi degli uomini poi al di là di tutto l'aspetto sportivo la nostra aspettativa è che questi uomini per effetto della nostra vicinanza e del nostro insegnamento diventano gli uomini migliori e sfruttando questo tipo di belletà abbiamo pensato che anche il carcere potrebbe essere un luogo di ricepimento di questo tipo di approccio insomma alla vita di questi ragazzi abbiamo scoperto che è un'esperienza molto importante, dura anche per noi e è una cosa che insomma credo che faccia crescere loro ma anche noi quindi io anzi suggerirei ai responsabili dei vari istituti scolastici eccetera eccetera di verificare la possibilità con i più grandi di avvicinare in un momento della loro esperienza scolastica i ragazzi intanto le difficoltà sono oggettive ovvero l'ambiente carcerario è un ambiente dove si applicano con rigore le procedure queste procedure non sono sempre snelle e semplici per cui la difficoltà più grande a nostro avviso è la comunicazione all'interno del carcere perché cercheremo e stiamo cercando di accorciare questa distanza creando insomma un rapporto privilegiato con le autorità penitenziarie perché purtroppo qualsiasi cosa qua dentro prevede averla pensata sei mesi prima quindi se si dimentica un pallone è un problema trovarlo, se si dimentica un documento è un problema averlo per tempi utili quindi questa è una cosa oggettiva con cui noi dobbiamo confrontarci e su cui dobbiamo lavorare per quanto riguarda le soddisfazioni io credo che l'applauso finale che avete visto qui dopo la proiezione del film ne certifichi insomma la bontà di questo progetto ovvero far sentire questi ragazzi non abbandonati credo che il nostro sforzo vada nel senso che è previsto in Costituzione di concepire l'attività penitenziaria non come una cosa di punitiva ma come una cosa rieducativa quindi noi ci limitiamo ad applicare la Costituzione al meglio delle nostre possibilità la squadra Giaro Dozza continua a esserci come ho detto dal 2014 continua a giocare sono 8 anni che partecipa a un campionato di Serie C della Federazione Italiana Rugby che anzi anche la Federazione Italiana sottolinea e enfatizza questi progetti perché comunque fanno parte di un approccio al sociale su cui tutti i sistemi dovrebbero promuovere qualche iniziativa quindi anzi la Federazione Italiana Rugby è molto contenta del nostro lavoro questo ci gratifica, fa parte dei piccoli successi che possiamo vantare dopo questi anni e comunque la squadra Giaro Dozza rimane avere proiettato questo film a una platea ridotta di persone fa parte di un processo di reclutamento da parte nostra nel paese di licenziario per vedere se tutti gli anni riusciamo ad avere il numero necessario di persone è difficile perché comunque c'è un turnover molto veloce, molto pesante imparare a giocare a rugby a 20 anni non è come impararlo a giocare a 6 anni e molto spesso appena questi ragazzi sono in grado di tenere in mano un pallone di capire dove stare in mezzo al campo vengono poi proiettati nei percorsi, nelle dinamiche giudiziarie sono tre allenamenti pomeridiani più uno dove si fa un'attività formativa all'interno di una sala in quella circostanza l'allenatore piuttosto che un arbitro federale piuttosto che un medico arrivano e espongono quello che è una parte importante dell'attività che sono i regolamenti, l'approccio agli infortuni quindi sono un'attività di 4 giorni a settimanale più la partita a sabato in casa ovviamente lo diciamo per chi ovviamente non conosceva il carcere però bisogna precisare che le partite sono partecipiamo a un regolare campionato di serie C federale quindi tutte le squadre di serie C organizzate nel nostro girone vengono qui a giocare con la differenza che noi non andremo mai a casa loro perché insomma la cosa è così Beh, l'istate d'orza è un grande evento per il carcere chi vogliamo ringraziare soprattutto? Vogliamo ringraziare intanto il Borgeschi che si è reso di spille l'associazione di Borgeschi che si è reso disponibile ancora una volta a realizzare questa iniziativa a favore di un'altra iniziativa che si rende ormai da oltre dieci anni ma ringrazio i volontari perché si sono resi disponibili anche ad una formula nuova e Satedozza quest'anno ha consentito la partecipazione anche a volontari che non erano dell'associazione e quindi un grazie sentito va anche a tutti a tutte le persone, a tutti i professionisti che hanno messo il loro tempo e le loro competenze a disposizione dei ritenuti le cucine popolari che hanno consentito la realizzazione del prezzo interculturale e quindi le iniziative sono state varie, sono state pensate per tutti i reparti ogni reparto ha avuto in ogni giornata della settimana un incontro con i volontari che sembra fino adesso che l'iniziativa sia stata gradita quindi siamo contenti, è stato un bel lavoro di squadra sia con i volontari ma anche con tutti gli operatori delle diverse aree quindi un grosso lavoro di collaborazione di sinergia Sappiamo però che lei ci ha messo del suo perché la voleva molto questa settimana all'interno di Dota ci spiega il motivo? Perché era un modo per segnare la ripresa delle attività trattamentali dopo la fine della pandemia e replicare un'iniziativa come state dozza mi sembrava il modo migliore per segnare la ripartenza e per questo l'ho voluta forse spronando anche i volontari del Porgeschi che quest'anno erano un po' preoccupati dall'assenza di loro volontari impegnati altrove e poi devo dire che la grossa novità dell'estate dozza è stata la partecipazione di Eudoradio che ha documentato tutte le iniziative questo sicuramente ci ha consentito un salto di qualità un ringraziamento particolare a tutti coloro che si sono resi disponibili con molta generosità a partecipare all'estate dozza incontrando i detenuti sugli argomenti e sui temi più vari un grazie particolare va anche alle cucine popolari che hanno offerto il pranzo interculturale per una sezione proprio nella logica di favorire la conoscenza di piatti tipici ma anche consentire ai detenuti di recuperare i sapori delle loro terre d'origine e ai ulli frulli che non potevamo fare state dozza senza la musica e siamo riusciti grazie alla disponibilità di questo gruppo e dopo la visione di questa intervista noi ci salutiamo vi ridiamo appuntamento a domani, stessi orari e stessi canali vi ricordiamo di iscriverci in redazione a liberi dentro chiocciolagmail.com un saluto da me, da Antonella, da Aenea Flacco, Diana Botta e Paolo Aleotti un saluto da me, da Antonella, da Anchea Flacco, Anna Botta e Paolo Aleotti Grazie a tutti.